Gennaro, che ci fai nel baniella in una scuola? Come sei entrato? Superpoteri. Sono venuto per quello che è appena successo con Fulvio Kakace. Eh, mi ha aperto gli occhiali. L'ha fatta a posto. Lo so. Fulvio Kakace è un essere malvagio. Ma scusa, non lo puoi far cadere dalle scali così si spacca la fronte e un'altra volta si impara? Non posso intervenire in un affare umano così piccolo. Tengo troppo a che fare. Troppi problemi. E allora che sei venuto a fare? Peppino, sono venuto a portarti una cosa molto più importante di una vendetta meschina e inutile. Sono venuto a dirti che hai ragione, che tu agisci nel giusto. Non ti basta? Sì, sì, non basta. Bene, allora anche questa missione è compiuta. Beh, non mi dici niente? Non ho niente di diverso? Veramente no. Bambino, tu sei troppo concentrato su te stesso. Questo non è bene. Ti guarda qua. Mi sono fatto lo smalto. Fine, eh? Adesso vado. C'ho un appuntamento con Tor. Il mitico Tor? Sì, vediamoci, Jenna, vediamoci. Ti voglio vedere. Poi ci vediamo e mi fa una capa tanto. Lui è quel martello fatato. Parla solo di quello. È una fissazione. Aspetta, Gennaro. Buongiorno. Grazie.